Buongiorno a tutti, notiziaria del Tg Sedizi, programmazione di giovedì 15 luglio, a Gorizia, nella sala minore del Kulturnitz Center Bratusch, in viale 20 settembre 1985. Alle ore 15 incontro con il musicista tedesco Harald Diers, direttore del coro da camera Conson, che nella passata edizione del concorso Seghizi si è aggiudicato il 21esimo Grand Prix Seghizi. Il suo intervento sarà centrato sulla figura del musicista svizzero Karl Rütti. Alle ore 16.30 l'attrice Francesca Accardi si esibirà in una performance teatrale letteraria intitolata Simili Opposti, su testi di Pirandello, Montale e Ungaretti. Alle ore 18 incontro con il musicista sudafricano Gérard Dutois, il quale presenterà la figura e l'opera del compositore sudafricano Hendrik Hofmeyer. In serata, ottavo festival Seghizi in regione. A Fiumicello, nella chiesa di San Lorenzo alle ore 21 ospiterà il coro Bel Canto del Canada. A Gonars, nella chiesa San Giorgio Martire di Faulis, alle ore 21, si esibirà il coro Genova Vocal Ensemble, Italia. A Gorizia, nel Duomo, alle ore 21, si esibirà il coro ungherese Magnificat Youth Choir. A Gradisca di Sonzo, al Duomo, alle ore 19, il coro bulgaro Slaviansca Beseda Choir. A Lignano Sabbia d'Oro, nel Duomo, sempre, alle ore 21, il Chamber Choir of Rostov Medical University, polacco. A Mortegliano, nella chiesa Santissima Trinità, alle ore 21, coro di voci bianche del Conservatorio di Rostov sul Don, Russia. A Opicina, nella chiesa di San Bartolomeo, alle ore 21, il coro Varsav Boys Choir, polacco. Pozzuolo del Friuli, area verde delle ex scuole di Carpeneto, alle ore 21, il BBTE Camera Chorus della Romania. E, a Roverevi in Piano, nella chiesa di San Bartolomeo, alle ore 21, si esibirà il Pilgrim Mission Choir della Corea del Sud. Vi ringrazio per l'attenzione, ricordo che l'entrata a tutte le manifestazioni è libera e gratuita, quindi accorrete numerosi ai concerti.